Si sostituisce agli studenti e incassa 470.000 euro a Palermo, la Guardia di Finanza scopre e una truffa con il bonus Cultura. Amministrative a Catania, Raffaele Lombardo, mi candido a Sindaco solo se il Movimento per l'Autonomia vada solo. A Palermo sassaiole contro la polizia e vigili del fuoco che hanno cercato di fermare gli incendi in strada causati dalle vampe di San Giuseppe. Hospital Chef, il progetto culturale, scientifico e gastronomico che parte dagli ospedali i primi luoghi deputati alla cura. Il Catania festeggia con netto anticipo la matematica promozione in C che segna il ritorno fra i professionisti. Ben ritrovati alla prima edizione del TG di Media News di lunedì 20 marzo. Apriamo con la cronaca si sostituisce agli studenti e incassa 470.000 euro a Palermo, la Guardia di Finanza scopre una truffa con il bonus Cultura. Sequestrati oltre 470.000 euro, profitto di una truffa aggravata che sarebbe stata realizzata da un commerciante palermitano per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'indagine è sviluppata dalla Guardia di Finanza di Palermo a seguito di una selezione operata su una platea di fruitori del cosiddetto bonus Cultura, ha fatto emergere un sofisticato meccanismo fraudolento che sarebbe stato ideato dal titolare di una cartolibreria nel quartiere CEP del capoluogo siciliano. L'attività investigativa avrebbe fatto emergere come l'indagato tra il gennaio del 2017 e il novembre del 2021, attraverso artifici contabili e false attestazioni, fosse riuscita ad ottenere illecitamente il rimborso del costo dei beni, solo fittiziamente ceduti a fruitori del bonus Cultura per un ammontare pari a 470.000 euro. In particolare i militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo, dopo aver raccolto le testimonianze di diversi giovani studenti risultanti beneficiari del sussidio, hanno acquisito numerosi elementi che hanno evidenziato come il titolare della libreria, sostituendosi agli studenti mediante l'utilizzo delle loro credenziali, avrebbe indotto in errore il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, riscuotendo indebitamente le somme connesse al voucher erogato allo Stato per finalità esclusivamente culturali. Passiamo alla politica amministrativa. Raffaele Rombardo mi candido a sindaco solo se il movimento per l'autonomia vada solo, lo ha detto durante il congresso MPA che si è svolto a Catania. Gremita la sala che ha accolto il congresso dell'MPA intitolato Catania pensa al futuro, quali le intenzioni del leader Raffaele Rombardo? La logica politica vuole che si concordi tra partiti, ho saputo che c'è andato il sindaco di Adrano Fabio Manguso che giovedì si è tenuto un incontro per cominciare a parlare di candidati comuni del centrodestra su Catania ma anche su altre città, ci si è aggiornati, dopodiché l'indomani esce una candidatura di un partito, ma siamo sicuri che è un partito, è il partito della Lega. Io esprimo una valutazione diversa. Quanto tempo ci vuole ancora? Insomma i tempi stringono. Io penso che la settimana entrante bisognerà vedere. O esplode tutto a seguito dell'iniziativa di ieri, mi auguro sinceramente di no, o il resto del centrodestra si aggrega e a questo punto sarebbe opportuno che qualche candidatura che è venuta fuori prima del tempo magari si ritirasse. Ma lei si vuole candidare? Lo dicono tante persone, qualcuno che qua insiste anche. Questo chiaramente mi lusinga enormemente, ma ritengo in questa fase è bene che un giovane, rigoroso, esperto, bravo, eccetera, chi è? E lo diranno i catanesi, vediamo intanto su chi si converge. Io mi auguro che non si metta una pezza a questa cosa, perché se si dovesse andare avanti come se niente fosse, col meccanismo delle compensazioni, io mi piglio Catania, tu ti pigli Torino e poi domani c'è poi Bologna piuttosto che, che cosa ne so, Teramo no, è troppo piccola, ma Pescara e compagnia bella, noi in questo caso, ve lo dico sin d'ora, non ci staremmo. Noi non ci staremmo. Se dovessimo andare da soli, io mi candiderei al sindaco, in questo caso sì. E continuiamo con la politica, da parecchi giorni gira a Catania il nome di Sergio Parisi come probabile candidato sindaco del centrodestra. Vediamo se è così in questa intervista. Lei è il candidato di sto centrodestra, di Fratelli d'Italia, perché oggi a Catania manifesti di Valeria Sudano è ufficiale, la Lega corre per i fatti suoi. Voi che dovete fare? Io ovviamente attendo indicazioni, in questo caso da Roma, visto che la partita chiaramente si gioca a Roma, Catania è la città più importante di questa tornata elettorale, ovviamente è giusto che questo accordo lo prendano i partiti a livello nazionale, quindi siamo in attesa, io ovviamente sono pronto. Lei è in pole position anche perché è un giovane, ha fatto un'esperienza non solo sportiva ma anche come assessore allo sport, quindi diciamo si è fatto un po' le ossa, ma lei sai che Catania è in una situazione disastrosa e che quindi si prende una bella patata bollente in tal senso, no? Mi permetto di risentire, Catania non è in una situazione disastrosa assolutamente, sono prospettive importanti, io avevo la delega alle poligie comunitarie, si sono fatte tante cose, a partire dalla rigenerazione urbana con le piazze, gli autobus elettrici, sono state fatte tantissime cose, considerato che noi abbiamo trovato una città in dissesto. Sono stati cambiati due commissari comunque recentemente, questo diamo atto che comunque nell'era pogliese si è mossa indubbiamente qualcosa, ma ora è una delle città più belle d'Italia, mi permetto di dire forse d'Europa e del mondo, ha grandissime potenzialità, abbiamo superato un momento difficile, è stato quello del dissesto, aver governato, essere stato presente in giunta, in una giunta che ha gestito in maniera veramente difficile l'amministrazione della città, però è stata un'esperienza significativa, un'esperienza che chiaramente dovrebbe essere messa a frutto in futuro e quindi... Si sente pronto lei? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora come diciamo per Scaramanzia? Sindaco ci vediamo presto? Per Scaramanzia no, ci vedremo presto sicuro, vedremo in che bestia. Torniamo alla cronaca, Palermo sassaiole contro la polizia e i vigili del fuoco che hanno cercato di fermare gli incendi in strada causati da Facino Rosi a causa delle pericolose nocive vampe di San Giuseppe. Quattro minorenni indagati per i reati di resistenza, violenza, a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. Festa di San Giuseppe a Palermo ancora una volta segnata da scontri con le forze dell'ordine da parte di Facino Rosi, che durante questa ricorrenza religiosa continuano di anno in anno a dare fuoco a catastre di mobili e legni per ripetere la pericolosa consuetudine della vampa. In questa occasione il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha effettuato un servizio di prevenzione predisponendo a curati dispositivi di sicurezza già da parecchi giorni attivi su tutto il territorio della città e della provincia, cui contribuiscono tutte le forze dell'ordine. La Polizia di Stato con personale in abiti civili ha pertanto svolto nei giorni precedenti una capillare attività di monitoraggio nelle piazze e nei luoghi di aggregazione di tutti i quartieri cittadini, atta a individuare e segnalare accatastamenti di legni e superlettili che hanno lasciato presupporre la successiva accensione di vampa, prestando una peculiare attenzione ai luoghi sensibili, quali abitazioni civili, ospedali, parcheggi pubblici o privati e ogni altro sito ritenuto a rischio. Sono state inoltre effettuate ispezioni preventive nei luoghi tradizionalmente votati all'accensione di vampa. Nella giornata di ieri sono state numerosissime le segnalazioni giunte presso la Control Room allestita per la gestione dell'evento e che ha coordinato l'impiego del personale in servizio in relazioni alle emergenti esigenze a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I quartieri maggiormente impegnati dall'accensione delle pire sono stati Falso Miele, Zandù, Brancaccio e Oreto ed è nell'ambito degli interventi effettuati nelle suddette zone che si sono registrati in maggior misura episodi criminali come sassaiole da parte dei numerosi soggetti in prevalenza minorenni indirizzati alle forze dell'ordine e di polizia e tutto il personale impegnato nello sgombero delle cataste di legno e nello spegnimento dello stesso. In alcuni di questi frangenti, in particolare nei quartieri Falso Miele e Zen, sono stati utilizzati lacrimogeni allo scopo di disperdere il folto gruppo di soggetti che minacciosamente con spranghe e bastoni e con lancio di pietre cercavano di impedire la rimozione delle cataste di legno. Quattro sono stati soggetti minorenni indagati di Stato di Libertà a cui si contestano a vari titoli reati di resistenza, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni personali e altri più gravi reati sono in corso di valutazione in seguito alla visione delle numerose immagini riprese dall'elicottero. Continuiamo con la cronaca. A Caramacca i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, ritenuto l'autore di una rapina commessa poco e riprima in una tabaccheria nel centro del paese. I carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato un pregiudicato di 35 anni del posto, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. I carabinieri hanno ricevuto la segnalazione telefonica del titolare di una tabaccheria che si trova in pieno centro cittadino, il quale informava il comandante di una rapina appena commessa presso il proprio esercizio commerciale. L'immediato intervento dei militari e grazie anche al sistema dell'impianto di videosorveglianza il rapinatore che si era rapidamente dileguato è stato poi localizzato e fermato mentre si trovava a bordo della propria Renault Clio nei pressi delle carcere di Caltagirone. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare restrittiva a seguito della quale è stato associato alla casa circondariale di Caltagirone. Cambiamo decisamente argomento, si chiama Hospital Chef, il progetto culturale scientifico gastronomico che parte dagli ospedali, i primi luoghi deputati alla cura per riportare al centro della terapia del benessere, una pratica alimentare come la dieta mediterranea riconosciuta nel mondo medico e scientifico come fattore di prevenzione delle patologie croniche. La dieta mediterranea rappresenta non soltanto una scelta buona per il palato ma buona per la salute. Secondo noi è un'informazione molto importante perché anche questa è cultura, anche questo è un modo per far comprendere che le patologie si trattano anche in chiave preventive, non soltanto quando si manifestano con i sintomi. Noi siamo convinti che proprio nell'ambito ospedaliero possiamo sviluppare una serie di accorgimenti, di metodologie, di buone prassi che si devono tradurre anche nella verifica che alcuni alimenti sono importanti per il controllo e per la non evoluzione di alcune patologie. Siamo evidentemente nell'ambito oncologico, è noto come per esempio il vino rosso, il resveratrolo ha una potente azione antitumorale ma accanto a questa che è nota più alla comunità non solo scientifica ma anche in generale ci sono altri alimenti come sempre l'oro d'oliva e i prodotti mediterranei di cui noi siamo evidentemente i primi fornitori sono certamente importanti nella gestione del paziente oncologico quindi in realtà è non soltanto un'azione informativa ma vuole diventare anche un'azione di ricerca. Nel nostro mondo, nel mondo occidentale, il 70% delle morti avvengono proprio per malattie cardiovascolari e malattie neoplastiche. Su quali sono i fattori di rischio? L'alimentazione è sicuramente una delle più importanti su cui bisogna tenere alta l'attenzione. L'occasione è questa, valorizzare e formare ed informare sia i malati e quindi i pazienti che gli operatori sanitari dei concetti di valorizzazione della dieta alimentare mediterranea secondo i dati di letteratura ci danno un'occasione in più per non incorrere in ulteriori malattie. Conclusa la complessa esercitazione interforze metropolitana a Catania promossa dai vigili del fuoco è stato simulato un blackout cittadino che ha fermato un treno in galleria vicino la stazione Stesicoro. Ne è seguito un incendio simulato con sviluppo di fumi e gas da combustione. Si è conclusa la complessa esercitazione interforze svolta negli impianti della metropolitana di Catania gestita dall'ente ferrovia Circumet Nea. L'attività esercitativa che ha visto coinvolti oltre 200 operatori di cui un centinaio di vigili del fuoco è stata promossa e organizzata dalla direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia in sinergia con la prefettura di Catania, il comando provinciale vigili del fuoco e il centro di formazione vigili del fuoco. L'attività esercitativa è stata anche finalizzata a testare le possibilità di trasmettere direttamente dai scenari di emergenza immagini e filmati in streaming e renderli disponibili ai centri di coordinamento oltre che ai mezzi di informazione. È stato simulato un blackout cittadino che ha fermato un treno in galleria vicino la stazione Stesicoro. Ne è seguito un incendio simulato con sviluppo di fumi e gas di combustione. A bordo del treno si trovavano circa 40 passeggeri, alcuni nel tentativo di raggiungere le uscite sono rimasti contusi e intossicati dal fumo. Sono stati raggiunti e tratti in salvo dai vigili del fuoco e consegnati alle cure dei sanitari del servizio 118. Per il coordinamento delle attività preseduto dalla prefettura di Catania è stato costituito un posto di comando avanzato, il PCA, da parte dei vigili del fuoco e attivato il centro operativo comunale, il COC, mobile dal comune di Catania in prossimità dell'accesso carabile alla metropolitana di via Ventimiglia. L'esercitazione che, oltre ai vigili del fuoco, ha visto coinvolto tutto il sistema di risposte alle emergenze, la prefettura di Catania, il 118, tutte le forze dell'ordine, dalla polizia, i carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, il comune di Catania, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali e autostradali è il volontariato di protezione civile ed è stata seguita in diretta streaming su internet e su due maxi schermi posizionati in piazza Università e in piazza Vincenzo Bellini del Teatro Massimo di Catania. Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici in Italia ha una sua realtà a Palermo. Lo scoutismo laico contraddistingue l'essenza e l'associazione nata in Italia nel 1912. Ci dicono che siamo scout perché ci piace partire per l'avventura. Noi rappresentiamo la realtà dello scoutismo laico, il CENGEI. Il CENGEI è la realtà più antica sul territorio nazionale, esistiamo dal 1912. A Palermo abbiamo deciso, insieme a un gruppo di adulti, di iniziare questo percorso di scoutismo laico. Accogliamo ragazzini che vanno dall'età degli 11 ai 14 anni. Prevalentemente ci distinguiamo dalle altre realtà scoutistiche italiane appunto per la laicità. Laicità che ci tenga a dire non significa che la nostra educazione, la nostra pedagogia è priva di elementi di spiritualità, ma semplicemente non abbiamo una confessione religiosa in particolare. Quindi ci occupiamo dell'educazione dei ragazzi a 360 gradi, dando a loro anche l'opportunità di crescere, di fare una scelta personale senza che gli venga imposta alcuna appunto religione o confessione religiosa. Quali saranno le vostre prime iniziative sul territorio? Le nostre prime iniziative già abbiamo iniziato da un mese. Abbiamo fatto la giornata del pensiero al Trapani, col gruppo di Trapani C&J, in cui abbiamo fatto diciamo varie attività del nostro percorso che riguardano la pioneristica. La pioneristica è un'attività particolare scout che riguarda tutto quello che sono i nodi, le attività appunto di pioneristica. Le nostre prime attività che faremo sono tutte le domeniche, dalle ore 16 alle ore 18, e facciamo in vari punti della città di Palermo. Questa domenica per esempio siamo stati al Parco di Tora. Ecco, come si è avvicinato a questa realtà? Io ho fatto il lupetto quando ero bambino e poi l'esploratore dagli 8 ai 13 anni. Poi ho lasciato perché ho iniziato un altro percorso sportivo. Adesso che sono in pensione da circa un anno, mio figlio mi ha voluto coinvolgere nuovamente e sono stato felicissimo di abbracciare questa realtà scoutistica a Palermo. Si è svolta ieri pomeriggio a Trabia una festa di solidarietà organizzata dall'imprenditore Gianpaolo Guida per un gruppo di bambini di una casa famiglia del territorio. Presenti diverse autorità istituzionali. Vediamo. È una bellissima festa perché riempire la giornata dedicata alla festa del papà di una festa per i bambini, dedicata ai bambini, credo sia davvero la cosa più bella e il modo migliore per dare un senso anche alla festa del papà, dedicarla proprio ai bambini. E in particolare a quei bambini meno fortunati che hanno magari situazioni familiari difficili o ancora ai bambini che hanno condizioni di sofferenza a causa di malattie. E allora io credo che l'iniziativa come questa, che nasce da un'idea di Gianpaolo Guida e che ha visto il contributo, tanti contributi di solidarietà, è davvero un'iniziativa importante perché dà un senso concreto, un contenuto concreto a quel principio del superiore interesse del bambino che è contenuto nella Convenzione dell'AIA ed è contenuto nell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali a livello europeo e che deve portare tutti noi a mettere la tutela dei bambini, l'attenzione ai bambini al centro del nostro impegno. Io lavoro da tanti anni proprio sul tema della tutela dei bambini e so quanto sia importante dedicare loro la giusta attenzione, l'amore e l'affetto che meritano. Una giornata particolare di solidarietà ma anche una giornata di confronto, di allegria, di gioia come diciamo tante Gianpaolo è abituato a regalare. Io ricordo l'anno scorso è stata veramente una giornata di grande festa, quest'anno sta replicando che dire, veramente diciamo la solidarietà al centro non si poteva avere miglior modo per festeggiare questa giornata, tra l'altro una domenica di sole. Questi bambini oggi ci riempiono non l'azienda ma ci riempiono il cuore, noi siamo qui per questa ragione. Siamo stati sempre sensibili a questo tema, però chiaramente quando accanto ci sono persone come gli organizzatori e tutto quello che stanno facendo, che io nemmeno molte cose sapevo, sono veramente contento e felice per loro, per tutti. Noi ci facciamo promotori e ci vogliono tante giornate come queste, tante persone che la pensano come noi e che con i risultati possono veramente fare la differenza. Ieri sera all'Ascari la tavolata di San Giuseppe più lunga d'Italia. Tra i profumi delle arance e dei limoni siamo all'Ascari per la tavolata di San Giuseppe più lunga d'Italia. Assisteremo a un trubione di emozioni, di gusti e di sapori con i prodotti tipici del luogo. Questa è una tradizione che viene da lontano, da molto lontano e che circa 15 anni fa le amministrazioni che ci hanno preceduto, guardando lontano devo dire, hanno deciso di iniziare questo percorso, di vivere questa tradizione nel modo in cui questa sera è rappresentata. Abbiamo dato continuità perché le cose belle indipendentemente dai colori politici vengono portate avanti, vengono anche migliorate perché abbiamo messo anche del nostro per poterla rendere più appetibile. Due anni di Covid sono stati pesanti, pesanti perché abbiamo dovuto interrompere tutto come in tutto il mondo naturalmente. L'anno scorso abbiamo deciso di riprenderla, eravamo in una situazione borderline perché ancora non eravamo completamente fuori della pandemia, ma era possibile farlo. L'abbiamo fatto con tutte le precauzioni del caso e ovviamente le presenze non sono state quelle che quest'anno stiamo registrando, però volevamo dare un segnale forte, un segnale di coraggio, un segnale di ripartenza per far presente alla nostra comunità e non solo alla nostra comunità che dovevamo andare avanti. Il Regina Margherita di Palermo porterà in scena il 3, il 4 e il 5 aprile a Palermo, Altavilla Milice e Castellamare del Golfo, il concerto di musica sacra realizzato da giovani studenti del liceo musicale. Un concerto di musica sacra, quello che vede i protagonisti, i ragazzi del liceo musicale, Regina Margherita di Palermo. La performance musicale andrà in scena il 3 aprile a Palermo presso la chiesa di Santa Maria della Pietà, alle ore 18, il 4 aprile presso il santuario d'Altavilla Milice alle ore 21 e il 5 aprile presso la chiesa di Castellamare del Golfo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. È una bellissima produzione di musica sacra, un bellissimo concerto che ci è stato concesso fare anche dal nostro dirigente Domenico Di Fatta, ha accolto il nostro invito dei laboratori di musica d'insieme archi e musica d'insieme coro del liceo musicale Regina Margherita di Palermo. Una produzione, come dicevo, bellissima e molto complessa. Parliamo, la prima parte del concerto, c'è di Anzi Belius, il brano che si chiama Improptu, opera 5 per archi. E la seconda parte è la versione integrale dello Stabat Mater di Giovanni Battista per Golesi. Tutti e 12 i movimenti. È stato un lavoro bello, appassionante ma anche faticoso. I ragazzi si sono molto impegnati ma vi assicuro davvero un bel ascoltare, un bel vedere. È un modo per preparare questi ragazzi alle performance dal vivo? Assolutamente sì. Il liceo musicale di Palermo, Regina Margherita, ha un percorso didattico che non si ferma soltanto alle lezioni di esecuzione e interpretazione in classe, ma attraverso i laboratori, prepara i ragazzi alle performance perché quello della musica, del musicista è proprio questo, è un lavoro pubblico che deve essere preparato con uno studio attento. Devono essere preparati i ragazzi ad affrontare emotivamente il pubblico, che non è una cosa così scontata, soprattutto per la loro giovane età. Ricordiamoci che sono adolescenti che vanno dai 14 ai 18 anni. È proprio la parte delicata della vita e quindi loro vanno sostenuti ed appoggiati e preparati proprio in questo difficile lavoro che è l'esecuzione musicale. E passiamo al calcio. Il Catania festeggia con netto anticipo la matematica promozione in serie C con una straeripante vittoria esterna contro il Canica T piegato per 4 a 1. Il Catania è la squadra dei record dell'imprenditore italo-australiano Ross Pelligra che festeggia con 6 giornate d'anticipo nel girone I. A Caltanissetta il 4 a 1 al Canica T e valsa la promozione in C a 6 turni dalla fine. 24 vittorie, 14 delle quali in casa senza mai perdere punti. La migliore difesa, l'attacco più prolifico con 63 reti. Una squadra da record nella stagione in cui l'imprenditore Pelligra ha preso in mano il calcio cittadino dopo l'indecoroso fallimento del 9 aprile 2022. Il Catania di mister Ferraro stravince con i gol di Sarao, Palermo, Jefferson e Vitale conducendo sempre ai vertici della classifica il girone I. Di sicuro la rosa dei giocatori messa assieme dalla nuova società fondata e guidata da Pelligra era sulla carta superiore ma il cuore e la passione per una nuova rinascita ha fatto la differenza. Il patrone del Catania Pelligra promette che la squadra sarà protagonista anche in serie C e che il progetto prevede il ritorno di tutta la città in serie A, la costruzione di un centro sportivo per dare a tutti i ragazzi di Catania la possibilità di giocare a calcio nella propria città. Il Catania vole ed è serie C, la folla si riversa in strada, festa in piazza Europa. Il Catania è esplosa di gioia con la promozione in serie C con sei giornate d'anticipo e battaglia essendo il Canica T per 4 a 1. Questo è il comunicato del Catania sul profilo Facebook. Prima della primavera, la stagione in cui solitamente si vingono in campionati, il Catania è già in serie C. Poco più di otto mesi dopo il 13 luglio del 2022, data del nuovo inizio, celebriamo insieme la promozione ma anche e soprattutto la rinascita che voi, tifosi, avete propiziato con la convinta adesione al progetto del presidente Rosario Pelligra. Avete accompagnato una squadra forte e coraggiosa, siete stati al nostro fianco e questo era un aspetto fondamentale per evidenziare nuovamente, anche in ambito nazionale e internazionale, al di là della categoria, l'importanza della maglia rossa-azzura e della città di Catania e della tradizione calcistica catanese. Sempre forza Catania! E continuiamo con lo sport. Nella ventesima giornata del campionato di pallanuoto di serie A maschile, vincono Telimar e Ortigia, pareggia la nuoto Catania. Nella ventesima giornata di campionato, le siciliane della pallanuoto portano a casa un bilancio positivo. Telimar e Ortigia vincono in trasferta contro Genova e Salerno, mentre la nuoto Catania deve accontentarsi del pareggio nella sfida con il fanalino di Coda Bogliasco. I palermitani riscattano la sconfitta in Coppa Italia e si portano al quarto posto in classifica anche grazie ad un super Giorgetti che per ben cinque volte va a segno nella porta dei Liguri. Il Telimar parte con il piede sull'acceleratore e nel primo tempo Chione e Giorgetti vanno a segno. Genova accorce distanze con Gambacciani, ma ancora Giorgetti e lo dico allungano per il Telimar. Il tempo si chiude con la rete di Nora per il 2 a 4 del quinto. Seconda frazione ancora nel segno di Giorgetti e Chione che apportano il Telimar al parziale più 6. Quinto cerca una scossa e sostituisce il portiere Massauro con Valle. Si va all'intervallo lungo sul 3-8 per il Telimar. La terza frazione si apre con un quinto arrembante, ma il Telimar non perde la concentrazione e risponde colpo su colpo con Delbasso, Hopper, lo dico, e il solito Giorgetti fino al 6-13 che chiude il terzo tempo. L'ultima frazione è un continuo ribaltamento di fronte, con il quinto che prova a risalire la china, ma il Telimar è attento in difesa e la partita termina con il punteggio di 9-16. A precedere il Telimar in classifica, al terzo posto, troviamo Ortigia che alla vitale di Salerno riesce a superare i padroni di casa con un 3-6, nonostante una fase offensiva non sempre all'altezza della situazione. La prima frazione vede Biancoverdi andare in vantaggio con Demi e raddoppiare con Vidovic, mentre il portiere Tempesti viene impegnato da un tiro insidioso di Esposito. La difesa di Ortigia è ben schierata e Tempesti in gran giornata, negando così la possibilità all'Arrinantes di rientrare in partita. Si va all'intervallo lungo sul punteggio di 1-3 per i siciliani, grazie al gol di Rossi e, per i padroni di casa, la rete di Barroso. La terza frazione vede ancora i Biancoverdi andare a segno con Di Luciano e con Demi. Ortigia non spinge ma amministra la partita e l'Arrinantes accorce le distanze con Pica. L'ultima frazione di gioco vede solamente due reti, Cassia per Ortigia e Parrilli per Salerno che fissa il risultato sul 3-6. La prossima giornata vedrai Siracusani impegnati in casa contro la capolista Pro Recco, mentre Palermo e Catania si sfideranno in casa del Terimar. Questa era l'ultima notizia, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News. Grazie a tutti i nostri spettatori e vi do appuntamento alle prossime.